Vabbè ho capito, facciamo un milione, un testone come diciamo gli altri. Cosa fa Tentenna? Risponde su! Io dico che è lei! Ma dico, avete capito bene che vi offro il contratto speciale. Signorina faccia vedere. Guardate che io sono il commendatore Ambrogioli di Verona e di Milano e ho pubblicato di tutto. Dal catechismo in formato gigante all'enciclopedia universale in formato tascabile e poi edizioni di lusso, edizioni in pelle, tela, in legna, in nylon, perfino in carta. Io sono quello che ha lanciato la Bibbia. Sapete quel libro un po' bardoso che pure il della Aurentis ci ha fatto un film ma con i diritti non so mica come si mette. Collane di pittori, collane di navigatori, collane di gastronomi. Ho fatto edizioni in tutte le lingue, in italiano, in francese, in inglese e perfino in dialetto. Sicuro signori miei, in dialetto. Tutta la Divina Commedia in Fiorentino puro, capite? Quel Dante, il successo, lo deve a me e mica all'olio. E non siete magari ancora convinti, eh? Non volete firmare? E allora vi svelerò un piccolo segreto. Per voi io ho creato una nuova branchia della mia organizzazione editoriale FF, fantascienza a fumetti. E voi sarete i primi scrittori specializzati che io prendo a contratto speciale. Avrete ufficio a disposizione.